Le funzioni esecutive sono lo strumento a disposizione del nostro cervello grazie al quale possiamo affrontare le sfide del quotidiano, nuove e complesse, con una marcia in più rispetto a ciò che abbiamo automatizzato. Queste funzioni esecutive evolvono con la crescita, con tempistiche, sì individuali, ma comunque seguendo determinati passaggi comuni. Quando uno studente manifesta fragilità nelle funzioni esecutive, la resa a scuola subisce un rallentamento se non addirittura una fase di arresto. Nel corso vedremo come queste fragilità si manifestano e con un taglio fortemente pratico e operativo valuteremo le opportunità di intervento traendo spunto dalle problematiche che gli allievi incontrano nello studio della matematica. Le strategie illustrate saranno comunque utili a dare spunti per sostenere l'acquisizione delle competenze nelle varie discipline.